Tris Quarté Quintè all'ippodromo del Castelluccio dei Sauri e l'ottava in programma, l'ultima del convegno. Mio per anziani, con il numero uno Oscar Di Kuma, con il due Park Disgray, con il tre Onistaff, con il quattro Prue, con il cinque Ninni HP, con il sei Ocean Stars, con il sette non solo a blu, con il numero otto il netto favorito Nowell, in seconda fila Nicholas B. Power, Orlof Starlight, Ocean degli Ulivi, Paradiso Blu, Nocerino, Car. Partiti velocissimo è il numero sei di Ocean Stars, che taglia subito corto e passa al comando. Vediamo il favorito Nowell, che in questo momento, in seconda pariglia, sposta Matti Orlando in terza ruota e al completamento della prima curva, il numero otto di Nowell, 29 e qualche lì. Minnia dovrebbe ottenere il comando delle operazioni dal numero sette di Ocean Stars. E quindi il chiaro favorito della corsa è lì, al comando, a dettar legge. Passaggio qui davanti alle tribune, 44 e 2, per lui però un po' meno, veniva dal largo della fila. Resta scoperto il numero sette di non solo a blu e in pariglie troviamo il numero cinque di Nininni. Ottocento transitati in un minuto, ultima frazione in sedici. Ha potuto graduare Nowell e sulla dritta di là è ancora saldo leader. Muove dalla seconda pariglia il numero cinque di Nininni. Chilometro in quindici e sette, con ultima frazione in quindici e qualche lineetta. E il numero otto di Nowell incomincia a pigiare sull'acceleratore. Nininni scavalca non solo a blu e va a piombare ai fianchi di Ocean Stars. A largo di tutti troviamo Paradiso Blu. Nowell WF completa l'ultima curva in solitaria. Prende due, tre di vantaggio nei confronti di Orlof Starlight. Paradiso Blu, Nininni. In retta d'arrivo Matti Orlando e Nowell WF fanno passerella ai cento finali. Nowell WF. Viene a stravincere nei confronti del numero dieci di Orlof Starlight. Due, uno, quarantacinque a chiudere. Compitino facile, facile, facile. Quindici e sei o giù di lì il ragguaio cronometrico per questo, oserei dire, lavoro pubblico remunerato di Nowell WF. In G non può correre. È sfilato al comando ed ha vitto in maniera chiara, netta ed evidente. Andiamo a vedere un po' i numeri. Al secondo Orlofs numero dieci, al terzo il numero quattro di Prue, per il quarto Ocean Stars e per il quinto il numero uno di Oscar di Kuma. Quindi il quinte, quartetris all'ippodromo del Castelluccio dei Sauri parla Nowell WF numero otto al primo, al secondo il numero dieci, Orlof Starlight, al terzo il numero quattro Prue, al quarto il numero sei, Ocean Stars e chiude la cinquina il numero uno di Oscar di Kuma. È tutto dall'ippodromo del Castelluccio dei Sauri, un arrivederci da Gianluca Cerino, a venerdì prossimo per le corse al trotto. Grazie. Grazie. Grazie.